L'attività di contrasto e controllo al fenomeno del caporalato disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica e attuato dal Questore di Reggio Calabria nell'ambito del Piano di Azione Nazionale e Trasnazionale, Focus e Drangheta hanno condotto questa settimana ad un nuovo risultato importante. Il servizio Interforze è stato svolto nel territorio della Piana di Gioia Tauro da una squadra coordinata dal Commissariato di Polizia di Gioia Tauro e composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale di Reggio Calabria e Ispettorato del Lavoro della Direzione Provinciale di Reggio e di Controlli hanno riguardato principalmente lo sfruttamento di braccianti agricoli prevalentemente extracomunitari impiegati per la raccolta e la coltivazione degli agrumi, delle olive e degli ortaggi. L'attività ha avuto origine da un appostamento nei luoghi dove si raccolgono i cittadini extracomunitari per essere avviati al lavoro e si è proceduto al controllo di otto aziende ricadenti nei comuni di Taurianova, Rizzicconi, Laureana di Borrello, San Ferdinando, Candidoni e Rosarno, nonché di 46 persone effettuando altrettante perquisizioni personali. Durante i controlli sono stati individuati 10 lavoratori in nero e sono state elevate 15 sanzioni amministrative per un totale di 113.600 euro. È stata inoltre disposta la sospensione di un'attività con sede a Melicucco. Questo tipo di servizi continueranno nei prossimi mesi per garantire la prevenzione dello sfruttamento dei braccianti e sanzionare eventuali violazioni poste in essere dagli imprenditori.